Ciao a tutti, oggi prepareremo i pasticcini di paste di mandorle. Il tempo di preparazione della ricetta è di circa 20 minuti più il tempo di riposo in frigo. Gli ingredienti sono mandorle pelate, albumi d'uovo, zucchero semolato, essenza di vaniglia, essenza di mandorla, ciliegie candite, bucce di arance candite e mandorle. Chiamiamo il via alla ricetta. Iniziamo mettendo nel boccale lo zucchero. Lo facciamo polverizzare per 15 secondi a velocità 10. Finiamo sul fondo lo zucchero. Righiudiamo il boccale col coperchio, leviamo il musiorino e azioniamo il bimbi a velocità 7 senza tempo. E andiamo ad aggiungere le mandorle dal foro. Dopodiché, dopo che avremmo aggiunto tutte le mandorle, faremo andare il bimbi per 30 secondi a velocità 10. Adesso aggiungiamo gli albumi d'uovo. L'essenza di vaniglia. E l'essenza di mandorla. Andiamo ad amalgamare per 30 secondi a velocità 4. Il nostro impasto è pronto. Andiamolo a trasferire in una sac à poche. Su una taglia rivestita con carta da forno andiamo a formare i nostri pasticcini. e così via fino al terminare l'impasto. Adesso andiamo a guarnire i nostri pasticcini. Iniziamo con le ciliegie candite. Mettiamo mezza per ogni pasticcino. Passiamo alle ciliegie di arance candite. Poi passiamo alle mandorle. E proseguiamo così a nostro piacere. Dopodichè andiamo a riporre in frigo per almeno 12 ore. Pasticcini di pasta e di mandorla. Grazie e alla prossima ricetta. Grazie a tutti. Grazie a tutti.